poi interpretazione di otoshi che otoshi è liquida ok vicino se invece vogliamo fare una cosa un po diversa attacca 1 1 questo colpisce il viso gira questo la mano che ha fatto otoshi chiude dietro il corpo poi giro vuoto si fatto violento rompiamo anche se noi possiamo per strada facciamo una versione un po più leggera ma arriva un gancio lo asciutto diventa così questo è già qua giro questo entra chiudo o con la mano o con questa parte qui invece sono i mediani del metallo che è fastidiosissimo poi me la giusto come vuoi dipende cosa voglio fare lo voglio controllare voglio rompere qualcosa voglio far male dipende in che punto mi appoggio con che cosa mi appoggio e la forza con cui lo giro quindi mi raccomando questo software